Dopo aver superato tutte le prove del concorso 2020, come vi siete sentiti nell'apprendere che non sareste stati immediatamente assunti in ruolo nonostante i posti vacanti? Qui in piazza per sostenere i colleghi precari della scuola, in particolare gli idonei del 2020 che si sono visti scavalcare dagli idonei dell'ultimo concorso PNRR del 2023. E questa è una condizione scandalosa per uno Stato di diritto perché non solo lede la dignità del lavoratore ma anche dell'impegno. Quello a cui noi aspiriamo è un grandissimo sciopero che coinvolga tutti gli attori della scuola perché è necessaria una riforma immediata, urgente, perché sono lesi i nostri diritti non solo quelli dei lavoratori ma anche quelli di essere umani.